Ciao a tutti, oggi vedremo come partecipare con i propri scatti al grande concorso fotografico Wikilofts Monuments. Wikilofts Monuments si svolge ogni anno nel mese di settembre. Il sito ufficiale del concorso per l'Italia è wikiloftsmonuments.wikimedia.it. Ogni anno, nel prima del mese di settembre, sul sito del concorso vengono pubblicate le liste di monumenti autorizzati per l'edizione corrente del concorso. Per vedere quali monumenti sono autorizzati basta recarsi nel sito ufficiale wikiloftsmonuments.wikimedia.it e nella voce di menu partecipa troverete sotto menu liste monumenti ed elenco enti. Cliccando questo sottomenu viene visualizzata una mappa dell'Italia. In questo caso vedete la lista dei monumenti relativi all'edizione 2019 perché appunto questo video è girato ad aprile 2020 e quindi ancora non sono uscite le liste di monumenti autorizzati per l'edizione 2020. Cliccando sulla mappa è possibile accedere a delle pagine di wikipedia che mostrano le liste di monumenti autorizzati. Clicchiamo ad esempio sull'Emilia Romagna. Ecco qua, veniamo reindirizzati in una pagina in cui sono elencate tutte le province. Vogliamo andare ad esempio nella provincia di Ravenna. Accedendo alla provincia di Ravenna troveremo un elenco in cui per tutti i comuni della provincia sono elencati tutti i monumenti liberati. In questo momento dell'anno vediamo solamente il nome del monumento, il comune dove si trova, l'indirizzo, le eventuali coordinate geografiche e poi all'estrema destra della pagina vediamo quali sono state le foto caricate per l'edizione 2019. Quando inizierà l'edizione 2020 del concorso, quindi nel mese di settembre, al posto della dicitura foto caricate nel 2019 troverete un tasto con scritto carica. Premendo il tasto carica accanto al monumento di cui volete caricare una foto, vi si aprirà una procedura guidata simile a quella che abbiamo descritto nella precedente attività di questa bussola su Wikimedia Commons. Vi basterà quindi seguire le istruzioni per l'attività di caricamento di una foto per pubblicare la vostra immagine sul database legato a Wikipedia e partecipare al concorso Wikilove's Monument.